cioè è una cosa incredibile loro ormai l'aereo lo stanno usando per fare utili attraverso servizi accessori quindi quelli ancillari cosiddetti nei bilanci che noi vediamo sono interessantissimi sono interessantissimi compagnia di navigazione, chi fa le crociere così, prima andare a una crociera costava un sacco di sui adesso sali con 300 euro una settimana, dopo devi prendere l'acqua, prendere il caffè, prendere l'escursione alla fine spende 1000 euro però intanto sali, ti fanno salire un'ultima cosa proprio al volo io ho assistito un po' di tempo fa, diciamo quando hanno aperto gli hangar di manutenzione per gli 800 a Bergamo, ero là, mi ha invitato il country alla conferenza stampa di O'Leary a un certo punto ha detto questa frase che mi ha impressionato, tutte le cose siamo bravi noi non vendiamo biglietti noi vendiamo passeggeri